Pavia è pronta a diventare partenza fissa della Milano Sanremo, una delle gare in linea di ciclismo più importanti del mondo. L'annuncio del sindaco fracassi a margine della presentazione dell'evento, che per la sua 115esima edizione ha scelto proprio Pavia come base di partenza il prossimo 16 marzo. Per quanto ci riguarda noi vorremmo che rimanesse stabile come punto di partenza. Milano ormai è deciso di puntare probabilmente su altre cose, è legittimo quello che possono fare, quando ci è stata data l'opportunità con loro abbiamo già detto che per quanto riguarda noi possiamo andare avanti all'infinito, rimarrà sempre la Milano Sanremo perché non si possono cambiare i nominativi ma la partenza è sempre ok per quanto riguarda la Pavia. I dissidi con il sindaco Sala avevano allontanato già lo scorso anno la partenza di questa classica da Milano. Dopo a Biategrasso toccherà ora a Pavia, un percorso di 288 chilometri che dopo la partenza da Piazza della Vittoria e 45 chilometri di strade pianeggianti lungo il Ticino rientra nel percorso classico a Casteggio. Ci sarà anche tanto il trepò pavese in questa edizione della Milano Sanremo che prenderà il via il prossimo 16 marzo, un'occasione per tutto il territorio. Lo sport in qualche modo è uno degli elementi trainanti anche per quello che è la vetrina del territorio, vetrina del territorio che significa tutti i suoi aspetti da quello paesaggistico a quello culturale a quello architettonico e soprattutto anche a quello diciamo enogastronomico. Quindi attraverso lo sport si può in qualche modo cercare di far crescere quello che è l'attività economica di questa città. Non sono mancati durante la conferenza stampa di presentazione i riferimenti agli attriti con Milano. Il ciclismo sembra essere off limits per la città. Una situazione commentata così dal sottosegretario allo sport della regione, Lara Magoni. Ognuno di noi sceglie dove investire, come investire. Da sportiva devo dire che la classica Milano Sanremo è già due anni che è fuori Milano. La scorso anno Biategrasso e quest'anno Pavia. Essendo una sportiva mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno e quindi applaudo a Pavia e alla sua provincia. Su Milano speriamo che si ravvedano. Grazie. Grazie.